Grazie a tutti. La proposta prima della pausa pranzo oggi è stata, com'è che gli italiani sono così poveri e lavorano così tanto, se Berlusconi ha così tante morose? Grazie. Di internet, delle comunicazioni, della televisione, dei viaggi in aereo, della TAV, dell'aumento del chilometraggio che si fa con i combustibili, la plastica. Beh, vi sareste assolutamente resi conto, avreste pensato che avreste vissuto in una vita piena di agi e di comodità. Tutto questo, in effetti, era stato celebrato come vantaggi di un'economia postindustriale. In effetti, la produttività è cresciuta così tanto in questi decenni che in tutti i modelli proposti dai libri di testo, l'idea era che un aumento della produttività si sarebbe trasferito sui lavoratori, perché avrebbe significato meno prezzi più bassi, per cui effettivamente si sarebbe potuto comprare più robe con lo stesso salario, oppure i salari sarebbero stati più alti. E tutto questo avrebbe significato appunto che i lavoratori avrebbero preso i vantaggi della produttività, dell'aumento della produttività. E nei libri di testo c'è stato ciò che poi veniva anche definito, la vendita delle vendite, scusate, la legge delle vendite, cioè i lavoratori dovevano essere in grado di comprare quello che loro producevano. E quindi era una sorta di flusso, flusso circolare fra produttori e consumatori. Un circolo la cui idea ci riportava ai fisiocratici francesi subito prima della rivoluzione francese che avevano creato la scienza dell'economia e della contabilità. Il fondatore François Tenet della fisiocrazia era peraltro un medico, un chirurgo. E aveva fondato la sua idea della contabilità del reddito nazionale sulla circolazione diciamo sanguigna, era questa la sua metafora e c'era comunque questa circolarità di produzione e consumo. E l'idea era che effettivamente tutto questo aumento della produzione dovesse comportare un aumento del consumo. Per cui in realtà, come peraltro ci stiamo addentrando nella finanza funzionale, la produzione crea il proprio mercato in termini di consumo pagando dai lavoratori che acquistano i prodotti che si realizzano. Pertanto la domanda che ci si pone a questo punto è perché non è accaduto? Con tutto questo aumento di produttività dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, come è possibile che dagli anni 80 in poi ci sia stato questo aumento davvero esponenziale? Come è possibile che non siamo tutti ricchi e viviamo in agi e comfort? Dopo la seconda guerra mondiale lavoravano soprattutto i maschi, le donne rimanevano a casa, dal 1945 in poi le donne hanno incominciato, anzi sono state anche in un qualche modo spinte sempre di più nella forza lavoro per le cosiddette famiglie a doppio reddito. Adesso abbiamo invece le famiglie a triplo reddito e se proiettiamo la partecipazione alla forza lavoro, nel 2020 ogni donna dovrà lavorare 18 ore al giorno e i figli anche dovranno incominciare a lavorare a tre anni di età per sostenere l'attuale tenore di vita. Se volete fare figli, metteteli a lavorare fin da presto, a tre anni, altrimenti fallirete tutti al verde. Ovviamente ciò che è accaduto era che l'economia post-industriale è diventata un'economia finanziarizzata, basata sulla finanza, il motivo per cui voi lavorate. Lavorate di più di quanto non lavoraste prima è perché state ripagando i vostri debiti, non state comperando quindi beni e servizi, quei beni e servizi che realizzate, state pagando i banchieri. Perché potete mantenere il livello di consumo standard e continuare a spendere soltanto se uno prende a prestito per poterlo fare, è l'unico modo in cui si può fare. E questo è il piano, l'euro piano che vi aspetta. È in questo modo che si sta sostituendo il capitalismo industriale con il capitalismo finanziario. Le retribuzioni e i tenori di vita non sono in realtà le vere ragioni perché tutto è mirato a questa economia finanziarizzata. E quando si dice che dovrebbe essere applicata un'austerità non è tanto il grasso che viene a essere eliminato, è la carne, l'osso che ci tolgono. Questo significa deindustrializzazione, significa disoccupazione per voi, per noi e la disoccupazione significa anche retribuzioni più basse per tutti. In tutti i libri di testo dell'economia, Economics 101, c'è curva domanda e curva dell'offerta. L'idea è che più alto sia il livello di disoccupazione, più bisognerà pagare la forza lavoro per portarla a lavorare. Quindi i funzionari pubblici, i banchieri hanno letto questi libri di testo e hanno detto ok, meno occupazione, allora più effettivamente si riducono le retribuzioni. E noi quindi vogliamo la disoccupazione per massimizzare la forza, il potere della nostra ricchezza rispetto alla forza dei lavoratori. 150 anni fa questo era chiamato l'esercito dei disoccupati, c'è bisogno dei disoccupati in realtà per tenere bassa la testa dei lavoratori. Quindi nonostante il fatto che la produttività sia aumentata dalla seconda guerra mondiale, l'economia reale e i vostri redditi si sono ridotti gradualmente. Con ciò che invece è cresciuto insieme alla produttività è la magia degli interessi composti. Questa crescita degli interessi composti è assorbita e ha assorbito tutto l'aumento della produttività. E questo si è riversato nelle casse dell'1%, non del 99% della popolazione. Una volta che si è capito questo, bisogna anche capire come noi cerchiamo di rispondere alle domande che sono state poste oggi, prima di pranzo. L'aspetto fondamentale è cercare di capire come l'economia odierna è diversa dal 1945. E tutti noi capiremo che siamo al termine di un ciclo, di un ciclo molto lungo. Nel 1945 in ogni paese il settore privato era relativamente esente da debiti. In realtà peraltro non c'era neanche molta roba da comprare per i consumatori e le aziende non è che avessero tanti motivi di investimento se non per il governo. Pertanto molte famiglie avevano pochissimi debiti, però avevano tanti risparmi. Oggi invece l'economia è esattamente all'opposto. I risparmi si sono esauriti, assottigliati e l'economia invece è fortemente indebitata. È importante sapere come mai tutto questo si è verificato, sapere come sia possibile blocare questo processo che è stato avviato una settantina d'anni fa. Ora, il motivo non è puramente finanziario, è anche di bilancio fiscale, perché le imposte si sono spostate, per così dire, dai beni immobiliari, dalle transazioni finanziarie sulla forza lavoro. E' questo che si tassa di più. Negli Stati Uniti, ad esempio, negli anni 30 del Novecento, il 70% di tutto l'erario, quindi di tutte le tasse pagate sia a livello federale che locale, derivavano dai beni immobiliari, quindi tasse sugli immobili. Oggi è meno di un sesto, un sesto soltanto proviene da questa fonte. Gli Stati e le città degli Stati Uniti sono stati convinti a ridurre invece l'onere, le imposte sui beni immobiliari e invece ad aumentare le tasse sui consumi, le tasse sulle retribuzioni. La tasse in particolare sul valore aggiunto, che è la tassa più contro i lavoratori. La tassa sul valore aggiunto si interferisce nel mercato e impedisce che voi compriate i prodotti che ha realizzati e il valore diventa in qualche modo tassa e la tassa viene trasferita sui banchieri che controllano il governo, i politici e anche i politici. A questo punto potrebbero non funzionare più. Allora dicono adesso abbiamo bisogno di un tecnico, di un tecnocrate per poter tassare di più, per poter dare più soldi alle banche, per poi poterle salvare se necessario, se poi la cosa non funziona, se qualcuno fallirà, di sicuro non saranno le banche, perché sono le banche che ci danno lavoro a noi tecnici. Negli Stati Uniti ad esempio un problema è che nel 1982 Alan Greenspan, che è un sostenitore del libero mercato, aveva avuto una commissione sulla previdenza sociale, Social Security Commission, dicendo la social security, la previdenza sociale non deve essere un servizio pubblico, deve essere pagato dall'utente che ne fa uso. Dovremmo rendere, far sì che il settore privato, i lavoratori, paghino per la previdenza e per l'assistenza. Non solo devono pagare, ma devono pagare cinque volte tanto rispetto a quello che potrebbero ottenere dalle banche, perché effettivamente le banche meritano di guadagnare un pochino di più. Il risparmiatore in America risparmia soldi prima e crea una grossa eccedenza di bilancio per le banche, o lo dà alle banche o al governo, in modo tale che il governo a questo punto possa tagliare le tasse su che cosa? Sugli immobili però, sulla finanza, sui ricchi, le tagli le tasse sui capital gains e dice adesso non abbiamo più soldi e dobbiamo pertanto far pagare di più a voi come contributi, a voi come previdenza, perché i lavoratori non hanno pagato abbastanza di contributi, non hanno pagato abbastanza per finanziare la guerra in Iraq, in Iran, in Afghanistan e soprattutto, non hanno pagato abbastanza per pagare la guerra di classe contro i lavoratori stessi. E allora le banche sono diventate parte integrante di questo settore finanza, assicurazione, proprietà, beni immobili, insomma, di cui vado parlando. Abbiamo il capitalismo dei fondi pensione ormai in America, per cui i dipendenti sono in un qualche modo, dovrebbero diventare dei capitalisti in miniatura grazie a questi fondi, grazie agli programmi di proprietà delle azioni, stock ownership. Ma in realtà in America una metà dei programmi di proprietà delle azioni sono andati a remengo, falliti perché se ne sono impossessati. I datori dei lavori, come ho detto anche oggi parlando del proprietario dello Chicago Tribune oggi, le banche prestano soldi ai corporate traders anche per fare dei buy out, delle acquisizioni da parte dei manager che possano appunto acquistare delle aziende per poter rubare i fondi pensione ai dipendenti e diventare in un qualche modo ad un processo di predazione, di saccheggio. In questo modo bisognerà... Voi oggi avete la possibilità di assistere a questo processo di predazione e tra l'altro ha dei economisti che hanno descritto questo, è stato anche assegnato il premio Nobel. Quello che ha detto Paul Zak, che in effetti ribadì a Balzac, ha detto dietro ogni fortuna c'è un furto. Oggi l'economia è basata sul furto che si chiama libera impresa, questo si chiama socialdemocrazia, questo si chiama socialismo, ma non è socialismo, non è socialdemocrazia, è come pensavamo cent'anni fa, è in realtà un travestimento della socialdemocrazia, del socialismo. Viviamo in una specie di mondo orwelliano in cui i nomi che i politici danno ai loro paesi sono all'opposto di quello che dovrebbero essere nella realtà. Nessun partito oggi si chiama fascista, nessuno partito adesso si chiama partito antilavoratori, si chiamano tutti socialdemocrazia, partito socialdemocratico, ma io ormai ho capito che voi avete capito che non è una vera socialdemocrazia. in America per trovare un lavoro gli studenti adesso invece di andare all'università pagando poche tasse o niente addirittura, devono appunto incontrare dei debiti, questo farà sì che dovranno ripagare in tanti anni per mettere insieme una famiglia, uno deve subarcarsi un mutuo che ci vogliono 30-40 anni, si fa il mutuo anche per comprarsi la macchina ormai, per andare a lavorare peraltro, e poi ci sono i nostri sistemi di carte di credito che sono assolutamente difficili da rimborsare. Quando si paga tutto questo c'è una deflazione da debito e questo è il motivo per cui i lavoratori non hanno più i soldi per comprare quello che essi producono e questo è il motivo per cui i banchieri invece hanno assistito, diciamo, godendo a questo aumento della produttività. Ora ho parlato in linee generali, in linee di principio fino adesso, però forse è il caso di dare un esempio di un paese che vi ha cercato di dire così dovete fare perché se l'Italia vuole avere successo è questo che dovreste fare. E qual è il paese punto di riferimento? Per voi vi viene detto la Lettonia, perché è il paradiso dei liberisti dove praticamente stanno costruendo quel tipo di economia che anche voi vi dicono dovreste creare e hanno creato un paradiso neoliberista. La Merkel, Sarkozy, bene, tutti come la Lettonia, tutti assolutamente. Cosa hanno fatto in Lettonia? È avere una tassa sull'occupazione del 59%, 59% sul lavoro. C'hanno una tassa sulle immobili dell'1%. Quando ci sono andato ho chiesto ma com'è che c'erano arrivati a questo 1%? L'avevano basato sulla valutazione più recente dei beni immobiliari che era stato del 1917, prima della rivoluzione russa. Così erano stati valutati e cui? Cos'è accaduto? In realtà c'era una tassa bassissima appunto sugli immobili, una tassa molto alta sul lavoro, e praticamente non c'era occupazione ma c'è stata una bolla, una bolla degli immobili, una bolla immobiliare. Si sono spesso rimproverati gli esponenti di questa bolla immobiliare che hanno fatto un sacco di soldi su questo meccanismo e i meccanismi di proprietà. Ma il meccanismo della speculazione immobiliare in America in realtà è che fondamentalmente la rendita serve a pagare, la rendita di un immobili serve a pagare l'interesse. Qualunque cosa l'esattore dà in termini di tasse, dà indietro, è disponibile per essere pagata alle banche sotto forma di interesse. Per cui sono le banche che si trovano tutta la rendita che invece doveva arrivare all'attifondista, all'aristocrazia che disponeva di terre della vecchia Europa. Quindi i banchieri sono diventati la nuova aristocrazia adesso. Ed è qualcosa che ci riporta al feudalesimo. Quello che avete visto oggi e quello a cui assentiamo oggi è lo stesso meccanismo che ha portato alla nascita del feudalesimo europeo. Con quel tipo di appropriazione è qualcosa che le banche fanno a nome dei loro clienti, dei monopoli, del settore immobiliare e del settore legale. Il risultato è che un terzo della popolazione lettone fra i 20 e i 35 anni di età è emigrata, è dovuta andarsi dal paese o sta pianificando di farlo. La popolazione si è ridotta del 15% sotto il governo neoliberista. La speranza di vita si sta abbassando. Le percentuali di matrimonio si stanno abbassando. Chi è che si può sposare, comprare una casa quando le tue retribuzioni vengono tassate al 59% e devi assumerti un debito di questo tipo? Ora, in Lettonia, un anno fa, mi sono incontrato con delle agenzie, delle assicurazioni e si sono reso conto che era un problema e hanno detto, guarda, alle banche guarda, non puoi raccogliere dal valore dei beni immobiliari assicurati e la soluzione a questo punto non è stata quella di tassare di più in modo che ci fosse meno tassare più gli immobili la soluzione è stata in realtà di andare dalle banche e dire quando arriva qualcuno per aprire un mutuo, per accendere un mutuo bisogna che firmino i genitori le zie, gli zii, i figli in modo tale che quando ci sia una rescissione non solo veniamo a pignorare te ma anche tutta la famiglia nonni, figli e facciamo emigrare tutta la famiglia o li riduciamo nella più abbietta povertà lo stesso sta accadendo in Islanda l'Islanda, forse anche peggio perché si è parlato dell'Islanda come se fosse un modello un modello di ciò che dovrebbe essere ma in realtà è stato un modello di come la popolazione dovrebbe votare contro le banche ma l'Islanda forse ancora più della Lettonia è un paradiso dei liberisti dei banchieri ed è un inferno invece per i lavoratori come ho detto il 10% della popolazione 30.000 islandesi già sono emigrati in Norvegia ad esempio e in altri paesi quello che l'Islanda ha è quello che dovrebbe essere un piano un modello per voi cioè gli interessi che dovevano pagare alle banche sono associati agli indizi di prezzo di consumo e al tasso di cambio della valuta dal momento che c'è stato questo crollo del credito nel 2008 le banche islandesi che hanno causato questo crollo anche beh non so supponiamo che uno avesse un debito di 1000 euro tutto questo magari veniva associato ad un proprietà garantito da una proprietà che a questo punto non vale più niente c'è un valore negativo sei responsabile personalmente la famiglia è responsabile e il debito è aumentato Paolo mi ha chiesto prima in realtà di parlare un momento delle vulture banks quando queste banche responsabili islandese sono fallite e negli ultimi settimane hanno incominciato ad arrestare alcune di questi quando le banche sono crollate allora il governo effettivamente stesso suo suo consiglio europeo ha detto indipendentemente da questo dovete punire i lavoratori ma dovete anche vendere le banche i cosiddetti fondi a voltoio a questi vulture funds questi investitori a voltoio hanno non so hanno cercato in realtà di predare l'Islanda e secondo la costituzione islandese però questi non potevano aumentare i debiti indicizzandoli invece l'hanno fatto secondo l'accordo bancario la loro promessa era stata che se si comperava una banca a 10 centesimi per ogni dollaro di valore bisognava rettificare i debiti del 90% e le banche avevano promesso di farlo invece non l'hanno fatto non hanno mantenuto la promessa e quindi gli islandesi e gli economisti hanno richiesto a quel punto che il governo applicasse questa norma che era stata concordata il governo social democratico isladesi ha detto non dobbiamo fare quello che il popolo ha detto il popolo ci ha eletto noi a questo punto lavoriamo per le banche perché la social democrazia significa governo delle banche governare per conto delle banche governare per un piccolo numero di famiglie in Inghilterra in Germania in Olanda il partito social democratico ha detto noi siamo parte dell'Europa non siamo parte dell'Islanda non siamo la vostra democrazia siamo la democrazia dei banchieri europei inglesi tedeschi olandesi che ci hanno sostenuto che ci hanno messo al potere e quando molti di voi mi hanno chiesto cosa facciamo in una situazione di questo tipo beh avete detto vogliamo essere attivi cosa possiamo fare beh potete essere attivi su entrambe le estremità dello spettro che sono entrambe corrotte per me quello che è sorprendente è che i partiti social democratici che è una cosa che mi sorprende che teoricamente dovrebbero essere a sinistra dello spettro politico eppure si sono spostati sulla destra del schieramento politico ora io ho conosciuto gran parte dei leader social democratici americani anche del mondo questo ho cominciato da quando ero ragazzino fondamentalmente negli anni 60 mi veniva detto che le spese di viaggio e di albergo di ogni rappresentante della seconda internazionale socialista di cui Dimitri Papandreu greco allora era presidente venivano pagati dalla CIA albergo e hotel e viaggio ho guardato il partito socialista americano venire a sostenere la guerra in Vietnam e vietare ogni forma di critica alla guerra del Vietnam nel suo magazzino youth per i giovani e ha perso il 90% dei suoi iscritti peraltro il partito socialista la teoria era che non si poteva avere il marxismo e dire liberiamo il mondo dallo stalinismo per far questo il partito socialista e partito socialista americano si è unito diciamo agli sforzi della guerra fredda ed è diventato uno dei sostenitori dell'amministrazione Johnson nel promuovere la guerra in Vietnam è come se la politica si fosse rivoltata testa e piedi con questa triangolazione socialismo stalinismo e la capacità però degli Stati Uniti di convincere i socialdemocratici europei che se in effetti venivano corrotti abbastanza questi avrebbero poi sostenuto le banche come pilastro come baluardo contro lo stalinismo il comunismo e i socialdemocratici si sono venduti con grandi vantaggi personali per loro stessi va detto e hanno ritenuto probabilmente che davvero il modo in cui si poteva opporre al sfruttamento industriale era sostenere uno sfruttamento finanziario hanno pensato che le banche avrebbero portato il mondo verso un progresso economico e non verso la direzione opposta pertanto il risultato è che i partiti socialdemocratici dell'Islanda ma anche della Lettonia ma anche della Scandinavia e anche di altri paesi europei ora ritengono che c'è un modo per assumere lavoratori ed è tramite l'austerità cioè abbassando del 30% le retribuzioni e poi smetti di far figli che è un lusso e migra se proprio devi e allora ci sarà un equilibrio e questo è esattamente l'opposto di quello che il capitalismo industriale proponeva eppure è questa la dinamica che oggi trionfa le alternative e adesso ne farò un breve cenno è che non tutte le imposte sono cattive perché le tasse sull'attribuzione aumentano il costo del lavoro ovviamente si possono c'è un tipo di tassa che è buona ci viene detto ed è la tassa sui redditi non guadagnati cioè sul monopolio sugli immobili in qualche modo lì andrebbe davvero spostato il peso delle imposte perché a questo punto avremo minore costo tra l'altro anche degli immobili e ci sarà se aumentiamo le imposte sugli immobili ci sarà una minore necessità di tassare il lavoro ora è chiaro che i banchieri vogliono che tutte le tasse che adesso vengano pagate al governo mandano pagate a loro sotto forma di interessi giusto e di questo parlerò un pochino più tardi adesso vi ringrazio per l'attenzione un pochino che si è